Signore e signori, Maurizio Crozza! Ciao, fratelli! Silvano Barciole Band! Andrea Zalone, my friend! Hello, bro! Ciao, frate! Che belli che siete! Ciao, fratelli! Ultima puntata live dell'anno. E chiudiamo in bellezza, però. Perché? Perché è stata una settimana fantastica. Abbiamo vinto il Moto Mondiale con Pecco Bagnaia. Abbiamo vinto la Coppa Davis con Yannick Sinner, ma la vittoria più bella è la medaglia d'oro che una delle più autorevoli testate americane ha attribuito a lei. Meloni è al primo posto della classifica di politico tra i leader più concreti in Europa. perché? Perché è un camaleonte. È ufficiale. Giorgia Meloni è la più concreta in Europa. Secondo posto, Ursula von der Leyen, la leonessa di Bruxelles. Terzo posto, Emmanuel Macron, il Toy Boy dell'Eliseo. E carini. Guardate che bel paginone le hanno dedicato. Guardate che meraviglia, guardate. Doers, che vuol dire chi è? Traduco. Doers letteralmente coloro che fanno. Inteso come concreti. Giorgia Meloni, che vuol dire Giorgia Meloni. e poi sotto The Camaleon. 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 Cumuline. Camaleon. Che vuol dire camaleonte? A seconda di dove la metti, lei cambia. Ma non il colore della giacca. No, lei cambia la sua politica. Perché è vero, come dice lei, che ci mette la faccia, però ogni volta sta faccia cambia. Ma infatti, il camaleonte... Camaleonte? Ma io non so mica se è un complimento, eh? Siamo sicuri che non sia un altro scherzo dei due comici russi? Riosciutmene a riasa. La vicenda della direttiva Wolkenstein, e in particolare della direttiva Wolkenstein applicata alle concessioni balneari, non ci serve l'autorivolissimo Mario Draghi per farci ricattare dall'Unione Europea. Sulle concessioni balneari, oggi bisogna iniziare, secondo me, una nuova contrattazione con la Commissione Europea. La Commissione dice che il lavoro che sta facendo non preclude questa contrattazione, secondo me, è un elemento positivo. Tutti quanti abbiamo avuto l'idea e il sogno di un'Europa che fosse l'Europa dei popoli, l'Europa delle patrie, l'Europa della gente. Ci ritroviamo di fronte a quello che anche in questa occasione drammaticamente si conferma come un banale comitato di affari di usurai. L'Euro è stata una catastrofe per l'Italia. Bisogna dire le cose come stanno. E allora bisogna anche avere il coraggio di dire che ce ne vogliamo liberare dell'Euro. La Commissione Europea ha approvato oggi la quarta richiesta di pagamento dell'Italia di 16,5 miliardi di euro. Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest'anno. L'Italia avrà così ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà dell'intero ammontare del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. Buonasera Presidente Meloni, cosa sta facendo il Presidente Meloni? Ma che è? Sono camaleonti. Sono tra i camaleonti più potenti del mondo. Ma non l'hai visto la richiesta americana? Mi trasformo. Si ricorda quando dicevo l'Italia devo uscire dall'Euro? Eh sì, appunto. Invece guardami ora. Che bello. Cosa? Essere tutti uniti. Ah, fa Draghi. Insieme. Nell'Euro. Sa trasformarsi in Draghi. La mattina mi sveglio e dico come sono orgogliosa di essere in Europa. Vabbè. Che bello applicare tutte le direttive europee. Ah, vabbè. Che bello. Quindi, stia buona. Quindi, scusi, applicherà la riforma del catastro e la Bolkenstein sui balneari? Eh no. Ah. Sono camaleonte. Eh no, quindi? E quindi... Ma si può sottostare alle folie dei burocrati di Bruxelles che vorrebbero che le case in Italia corrispondessero perfettamente alle mappe catastali. Primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano, quinto piano. Ma potrò farmi un ristorante tutto mio sugli scogli? No, non si può. Sulla costiera amalfitana senza dover chiedere il permesso al signor Bolkenstein. Oh, mamma mia che fatica. E quindi... E quindi? Oh, mamma mia. Camaleonte va bene, ma cosa... E quindi possiamo dire che esiste una Miloni mamma che toglie gli asili gratis. Fatica, eh. Alle mamma, dico bene, Travaglio. Fa la Gruber anche, fa la Gruber. Mi scusi, ma è rimasta qua. Eh no, perché è strano che lei si diventi anche Gruber. Sto mammut scongelato male. No, no. No, volevo fare l'altro. Quale? Quello che difende quelli che saldano. Chi? Cosa? Quelli che fanno i muri. Chi? Quelli che fanno gli scioperi. Ma chi, gli operai? Bravo, bravo. Volevo fare quello che li difende. Ma chi, Landini? Landini? Eh. Mai. Ah, no, allora non capisco. No, fammi fare tutto, ma Landini. Eh, vabbè, ho capito, però... No, no. Aia. Cosa? C'è una cosa che mi dà fastidio qua. Cosa c'ha in ta? Che è? Eh no, so due miliardi, è una parte di due miliardi. So piena dei miliardi. Ma cosa? Cento ne ho presi, me li hanno messi dappertutto. La quarta rata del... Vabbè, adesso... Non esagili. In Europa. E la quarta rata viene al reno. Mi hanno detto, questo è il camaleonte più potente del mondo. Vabbè. Davole un po' di... De cosa? De cosa? Amico caro, della crana. Non faccio razza. Ho fatto un po' le cazze tua, eh. Io so il camaleonte, amico caro. Sì, ma cosa fa razza? Ma... So il camaleonte, no? Abbiamo capito, abbiamo capito. Ma devo... Io ma devo... Sì, ho capito. Però bisogna essere coerenti, no? Cambio colore. Sì. Cambio casacca. Certo. Solo i coerenti... Sì. Non cambiano casacca. Ho capito, lei sarà anche stimata. Però l'Italia ha perso l'Expo, eh. E che era un progetto mio. No, ho capito, ma è il paese. Gualtieri l'ha perso l'Expo. No, no, è l'Italia. Secondo te sostengo Gualtieri che è da sinistra. Ma che c'entra? Io come camaleonte mi spingo fino a Draghi. Sì, ho capito. Ed è per questo che faccio i complimenti a Giorgia. Addirittura, sì. Che si fa bella, coi miliardi del PNRR. Certo. Che in buona sostanza aveva preso Conte, se non sbaglio. Guardi che sta facendo i complimenti... Ma che sta a dire? Ha fatto i complimenti a Conte. Ho esagerato col camaleonte. Perché quando il camaleonte c'ha fame... E certo. Non ragiona più. Eh, lo so. E io ho tanta fame. Sì. Eh, vabbè, ma basta. Adesso... Ma che sta passando lì? Cosa? Cos'è? Cosa ha mangiato? Cosa? È il salario minimo che mi sono mangiata. Ah, si è mangiata. Non se ne parla più. E infatti. Non se ne mangiata. Eh, vabbè. Andrea Zalora. Il Vano Belfiore. Da Monte dei Paschi di Siena a Ita, Giorgetti riapre la partita delle privatizzazioni. Privatizzazioni. Oh! Finalmente, con Ita e Monte dei Paschi, un po' di po po po. Soldi per Natale, ce li facciamo, eh. Monte dei Paschi e Ita. Prima le abbiamo risanate con i soldi pubblici e ora le vendiamo. Pulite come il culo di un bambino dopo il bagnetto. D'altra parte, lo Stato ha bisogno di soldi. Gli evasori non si possono toccare perché sono santi elettori. E così ci sbarazziamo del resto dell'argenteria. Improvvisamente siamo tornati nei magici anni 90. Il decennio in cui l'Italia si è inventato il grande Black Friday. Lo svuota tutto di Stato. Allora, nel 92 abbiamo privatizzato Eni e le ferrovie. Nel 93 Agip, Snam, Enel, Stat, Ina e Credito italiano. Nel 94 tutto il mercato telefonico. Poi le autostrade, poi le banche, le acciaierie, poi il gas, poi i gasdotti e tutta l'energia. Dal 1992 al 2000 ci siamo venduti tutto. E ora, per gli ultimi pezzi rimasti in magazzino, ci pensa Giorgetti. E adesso apro e chiudo la parentesi. Panfilo. Quale panfilo? Questo. Allora, voi non ci crederete mai, ma è iniziato tutto in quel panfilo lì. Sullo Yacht Britannia. La nave dei reali inglesi. Ieri al 1992, proprio sul Britannia, davanti a Civitavecchia, tra un parabordo e una tartare, un giovane direttore del ministro del tesoro italiano, radunò un centinaio di rappresentanti della finanza anglosassone e americana e fece un discorso bellissimo che entrò nella storia. Cari amici banchieri, l'Italia è in vendita. Comprateci. E così è stato che si è svuotato lo Stato. E secondo voi, chi è stato il giovane direttore del tesoro che ha organizzato questa svendita totale che ha messo in mutande lo Stato italiano? Lui. Mario Dragone. Qui, lo vedete, è un incrocio fra Hugh Jackman e Marco Liorni dell'eredità. Però lui ha fatto un lavoro da Mastrota. Eh. Si è venduto qualunque cosa. Draghi qui aveva trent'anni di meno e noi centinaia di aziende pubbliche in più. Il Britannia, Draghi e le privatizzazioni dell'Italia. Su quel panfilo gli anglosassoni dettarono le istruzioni su come vendere l'Italia, ossia su come obbligatoriamente privatizzare le industrie trecolore. Guarda caso, sul Britannia c'era anche la Goldman Sachs, la stessa che dopo un po' ha scelto Draghi come vicepresidente. Ops, che strano. Ma non pensate male. È solo per dire che gli uomini d'affari nel mondo sono tutti nella stessa barca. Quella lì. Chiusa, parentesi, panfilo. Però adesso ne apro un'altra. La parentesi, treno. Seguitemi, perché non sono matto. Prima o poi vedrete che arriva un senso logico al tutto. Cina. Il treno Super Maeglev da 600 km orari da Pechino a Shanghai 1.300 km in due ore e mezzo. Che strano. Loro fanno i treni veloci che vanno a 600 km orari e noi facciamo quelli che si fermano a Ciampino per far scendere l'olobrigida. No, ma... Si spiega, si spiega, si spiega. Su innovazione e tecnologia la Cina è pazzesca. Lo Stato ha il controllo totale dell'economia. Lo Stato possiede tutte le aziende strategiche e il risultato è che lavorano tutti, funziona tutto e hanno una visione. Guardano lontano. Sì, certo, certo. Ci sarebbe questo piccolo problemino che è una feroce dittatura ma in Cina ci passano sopra. Diciamo che se in Cina cerchi piazza Tiananmen su internet un'ora dopo ti trovi legato sui binari del treno che va a 600 km orari. Ma infatti, lo dicevo, ci passano sopra. però... però pensavo ma perché non prendiamo solo il lato buono della Cina? Statalizziamo di nuovo tutto anche noi. dai, cazzarola, torniamo al dopoguerra. Torniamo a Gronchi. Questo che vedete dietro di me è il presidente Gronchi che visita l'ENI alla metà degli anni 50. Guardate se non sembra Mao Tse Tung. ENI, ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, telefonia. in Italia era tutto statale e in vent'anni, da paese distrutto che eravamo siamo diventati la settima potenza industriale del mondo. Poi però, purtroppo, sono arrivati Reagan e la Thatcher che hanno detto Cristo, dobbiamo privatizzare tutto. Dannazione! Giusto, Ronald. Allora io attacco le Falkland. Brava, brava. dobbiamo dare una lezione anche ai comunisti dell'Iri. E intanto io però affitto il Britannia, dice invece Draghi. Infatti Draghi ha fatto lo splendido sul Britannia e Prodi ci ha cascato. La sanità è sempre più privata, la scuola pubblica la tagliano e non riusciamo nemmeno a tirar su uno straccio di salario minimo. La domanda che vorrei fare al mio governo è ma se privatizzate tutto ma perché io ieri ho dovuto versare l'anticipo IRPEF? No, capite governo, è come se il pubblico qua dopo aver pagato il biglietto per venire qui trovasse il palco vuoto perché io sono in camerino a farmi i cazzi miei. Io ho una proposta da fare al governo. Volete privatizzare tutto? Va bene, privatizziamo. Anzi, facciamo così. Liberalizziamo tutto. Ok, ci sto dentro. Però allora liberalizziamo anche gli stati. Fatemi scegliere quello che fa l'offerta migliore. Che ne so. Cipro. Fatemi vedere Cipro. Potrebbe offrire un pacchetto con l'aliquota IRPEF al 12,5% per esempio, no? Più il salario minimo. E climamite. Però vedo che la Germania mi propone un'aliquota IRPEF un po' più alta che va dal 14 al 42% ma fa studiare i miei figli. Mi costerebbe pochissimo. Altrimenti la Norvegia. C'è la Norvegia che mi propone la corrente elettrica gratis. Se fai un buco per terra ti esce il petrolio. Certo, è una piccola monarchia. Fa un freddo maiale porco. Ma la sanità è eccellente. E certo, e ci credo, puttana Eva, usa i nostri infermieri. Caccia gli infermieri italiani. La Norvegia offre posto fisso a 3500 euro al mese con affitto pagato. Ma vedi che il mercato libero degli stati in Norvegia lo fanno già. Noi non siamo capaci nemmeno di tenerci gli infermieri. E mandiamo via anche i medici dagli ospedali pubblici. Luca Zaia. Tra tenere nella sanità pubblica i medici con più di 70 anni in Veneto ne mancano 3500. E lo so, però ragazzi non ridete perché Zaia è disperato. In Veneto mancano 3500 medici. No, aspetta. Applausi. Quegli anziani non fanno tempo a uscire dal pubblico che il giorno dopo lavorano nel privato. Tra poco negli ospedali pubblici invece di operarti ti metteranno un tutorial su YouTube che ti insegna a toglierti le tonsille da solo. Si può fare. Certo, associare Zaia ai guasi dell'Italia è una forzatura perché la serenissima Repubblica del Veneto fa già stato a sé. Lo vogliamo vedere, Zai? Lo vogliamo vedere? Sì! Ma non ora. Tra poco. A poco. Sessanta sette impressions, no? Sessanta sette. Sessanta sette milioni. Sessanta sette milioni. Ah, sono aumentate? Settanta sei milioni. Qui dovete farne almeno duecento milioni. Ventotto per due quanto fa? Cinquantasei. Fa cinquantasei? No, non lo so. E... Prego? No, io mi devo allenare a fare i conti perché poi Crozza riporta tutti gli eroi. No, perché tu fai ventotto per due. Se fai venticinque per due quanto fa? Visto che lo sapevate tutti. Ne restano quanti? Tre da una parte e tre dall'altra. Quanto fa tre più tre? Cinquanta più sei? Cinquantasei. Fatto il conto. Oggi siamo arrivati al punto di non ritorno perché in Italia mancano cinquantamila medici. Di questi cinquantamila, tre mila e cinquecento in Veneto. E vi dico solo che il galleggiamento, cioè coloro che stanno attendendo una vista oggi sulla categoria 30 giorni è di circa trentottomila persone. Ecco, se avessimo tre mila e cinquecento medici, dieci visite al giorno sarebbero trentacinque mila visite in un giorno. Vuol dire che in un giorno e qualche ora avremo chiuso la partita delle liste d'attesa. Bisogna pensare ad ospedali meno costosi, più funzionali però. Non dico arrivare a dei cappannoni, ma quasi. L'ospedale, l'abbiamo capito col Covid, non è più un posto per metterci la parrucchiera, il ristorante, il bar, la libreria, queste robe. Usa e getta con un arco di tempo nel quale vengono utilizzati a pieno e poi vengono aggrediti pian piano. Diciamo un continuo riciclo e riordino. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi. Vorrei iniziare, se non vi dispiace, festesando i due mila, mie ardide coppie vendute del mio libro. Ma no, anche i due mila miliardi. Va bene, dai, mi dispiace un po' per la foresta massonica, vero Buadì? Ma d'altronde me l'ha richiesto in tanti, 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 ma tanti. Sai soprattutto chi? I giovani. Soprattutto i giovani, boa, che sarà una questione di ormoni. Ma mi hanno detto che avevano proprio voglia di lesere il mio libro. Pensate che è stato tradotto anche in italiano. Chissà come l'avrà scritto. Da un'ottina di giorni ho iniziato il tour di presentazione. Come ormai sanno tutti, l'opera è tratta da un viaggio. Io mi commuovo a parlare di questo viaggio perché c'è stato un viaggio di 70 ore che ho dovuto far su una due cavai. Che non aveva neanche il cambio. L'ho fatta tutta in prima. Come 72 in prima. È vero che ti ricordi? Tutta in prima l'abbiamo fatta io, il toldego, il boa, il carmentieri e il gongo. Il contachilometri era l'orologio a cucina di mia mamma. Te ricordi? Speriamo di no. Che poi mia mamma ci faceva anche, ci ha fatto anche, ci fece, ci focce, ci fecese. Ci fecese anche una crostata tipica veneta. Ci fecese. Pensate una crostata di fegato del rognone da portare in viaggio. Addirittura. Te ricordi quando abbiamo buccato che l'abbiamo messa come ruota di scorta? La crostata, no. E rispetto alle ruote standard della Docavai, la crostata era una slick da Formula 1. Per dire, per dire. Perché la Docavai era così, vi dico solo che il motore da Docavai s'avviava con una cordissea. Ma come? Ti sei presente come i gomoni. Mamma mia, mamma mia, un'epopea sarà stato questo viaggio. Bua, bua. C'era un altro mondo. L'epopea sì. C'era un altro mondo. Analogico. Analogico. C'era meno GPS ma più amore. Ah, ecco. Ma scusi, per venti mia, sa mica che strada devo fare? E quello ti diceva, ma arrangiati pelandrone. L'amore. Ma te lo diceva con un amore. In faccia te lo diceva, non su Facebook. Te lo diceva in faccia, arrangiati pelandrone. Che bel viaggio. Se te sbucciavi in ginoccio. Sì. Perché quante volte se siamo sbucciati in ginoccio, ti ricordi, no? Per cosa. Quando facevamo le cose che siamo si volati sui vetri, ti ricordi? Cosa facevamo? Che siamo andati a pronto soccorso pieno di vetri piantati. Finivano in un pronto soccorso del cuneo. Eh. Ti venivano incontro quattro medici. Eh sì. Addirittura. Uno che te toglieva i vetri. Sì. Uno che ha tintura di odio. L'altro che te soffiava, 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 soffiava perché ho gli odio, brussava. E c'era un altro sistema sanitario, sì. E l'altro che te metteva al serotto. Eh certo. Uno per parte. Sì. Eh? Non come oggi che ci sono le liste d'attesa dei pazienti nella sanità. Eh, quello è un problema. Camilla, dammi la cartella per favore con le liste d'attesa. Ah, immagino che ce ne saranno tante. Che da tendere? Anche per la cartella. Per la cartella delle liste d'attesa. Ma quante cartelle che hai prima da mia? Ah, 40 cartelle prima da mia. Mamma mia, è proprio tanto. Ecco, questo è giusto per farvi capire la situazione. Pensate che se avessimo, se avessimo, se pensate che italiani, se avessimo 3500 quadri dei medici, no, 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 aspetta, vedi che senza cartella mi confondo, se avessimo 3500 medici quadrati in più, che facessero, che facessero, insomma, che ognuno fa 10 visite al giorno, i pazienti in attesa si annullano, ma anche zero medici qui e 3500 che arrivano da Milano, in 20 minuti, se solo avessimo treni che vanno a 2000 chilometri all'ora, oppure se avessimo 70.000 medici, ognuno che farebbe la mezza visita a testa, se non ci sarebbe più la lista d'attesa dei pazienti, ma le liste d'attesa dei dottori, ma mi dico anche di non pensionare i vecchi medici. Ecco, questo, questo, se lavorassero altri 200 anni cada uno, tanto siamo i primi per trapianto di cuor di cadavera, facciamo tutti i medici zombie e le liste d'attesa scendono a meno 200. Ma che ragionamenti fa? Comunque, è tutta una roba da ragionarci sopra. No, ma è da capire. Comunque, in ogni modo, vero tema di questa sera, sempre restando in argomento della sanità, sì, c'è una grande mia idea, e c'è un'idea che vi annuncio in esclusiva, e cioè gli ospedali usa e getta. Ma non esistono gli ospedali. È vero, ma vi dico, perché gli ospedali alla lunga, coi batteri si infettano. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? E daghe della mucchina, daghe della carta vetrata, daghe del molotov, ma il batterio se tenasse. No, togli mica, no, leva. Allora io ho questa visione di un ospedale che usi una volta sola, come i guanti del supermarket. Ma no, come sì? Abbiamo il casino che butta via Vanghe, Descartes e Desogo. Allora, noi facciamo come un grande castello Descartes, con riscaldamento a bue e asineo, che sono rinnovabili, senza interrar tubi, senza far tracce. E a tale proposito abbiamo pensato a un progetto per il nuovo ospedale del Padova Est, che sarà il più grande ospedale d'Europa, e sarà fatto tutto. Ecco te qua. Geniale. De Marzapane! C'è fatto come a casetta di strega di Ansel e Gretel. Tutta una struttura semplice, ma tanto semplice, visto che dopo dieci anni al massimo la buttiamo giù. E quindi? La strada è fatta di moiche di pane. No. Come poesino. Ma come si fa? Al posto dei letti, tronci di albero. Ma non si può. Ma neanche sfrondati, piano piano l'ospedale sparisce da solo. Perché se mangia le formiche all'ospedale non è più posto dove metterci a parrucchiera, il ristorante, a paestra. Ci sono ospedali che hanno le giostre. No. E non è più posto per tutte quelle. Magari un ottovoante, ma tutt'al più un bob, una pistola da bob, ecco tutt'al più. Ci si può mettere una grande edicola e libreria che vende magari solo un mio libro. Che racconta di 70 ore su dei cavai. Non ti dico, un ospedale fatto di scioccolare. Magari un ospedale. Allora. Dunque. Questa che vedete è Riyadh. Riyadh è la capitale dell'Arabia Saudita di Bin Salman. Meglio conosciuta come Rensiland. Ebbene, ed è proprio a Rensiland che si è aggiudicata l'Expo 2030. L'Expo 2030, Riyadh, Roma, solo terza con 17 voti. In Europa avevano promesso alla Meloni di votare tutti compatti, cazzo, tutti per Roma. E su 27 paesi ne sono mancati 10. Diciamo che Giorgia in Europa conta come annunzia De Girolamo su Rai 3. Invece, fuori dall'Europa, è andata pure peggio. Non ci hanno votato neppure i paesi con cui abbiamo fatto i famosi accordi storici. Expo 2030, nemmeno le amiche Albania e Tunisia hanno votato per Roma. E questi sono i paesi che dovrebbero prendersi i nostri migranti. Minchia, ci hanno tradito al primo bonifico. Io ce lo vedo, Edirama, il premier albaneseno. Quando il grano di Arabia Saudita chiama, Albania c'è. Eh sì, perché pare che il cash abbia contato. Non lo dico io, eh, che ha contato. Lo dice il grande sconfitto. Expo 2030, lira di Gualtieri. I sauditi hanno dilagato grazie ai petrodollari. Povero Gualtieri. Cosa poteva fare lui? Una controofferta in cinghiali, forse, non so. No, per lui, questa è stata una botta, cioè, all'Expo ci teneva tantissimo, era l'unico modo per dimostrare ai Romani che esiste. Non è il tipo, perché lui è un timido. È così timido che se andasse in giro per Roma dicendo, lei non sa chi sono io, avrebbe sempre ragione. Roberto Gualtieri sta al carisma come Del Mastro sta alla riservatezza. Quando Gualtieri è andato a New York per perorare la causa dell'Expo a Roma, ha fatto un'intervista in cui, come efficacia, non è nemmeno riuscita a superare il vento. Quando il giornalista gli fa la domanda, il vento non c'è e si capisce tutto. Appena inizia a parlare Gualtieri, parte un monsone, credo, dalla Florida. Ma ve lo giuro, non si capisce più niente. Guarda, guarda, sta a vedere, vai. Sindaco a New York, qui alle Nazioni Unite, per perorare la causa italiana per l'Expo a Roma. L'Expo ha sicuramente un regolo assoluto di visitatori e quindi una grande comunità di tutti i paesi, a cui noi ci rilugiamo l'idea di ascolto e di inclusione. E questo aspetto mi piace molto. Povero Gualtieri, ma è sempre così, è talmente timido. È così. Ma non si è capita una minchia. Io ho capito solo che non è portato obiettivamente. Ma infatti lui manco voleva candidarsi. Nel 2021 l'ha fatto controvoglia solo perché gliel'aveva imposto il PD. Per lui fare il sindaco è come fare la naia. Non vede l'ora di essere congedato. E magari tornare alla sua vera passione, che è la chitarra. Guardiamolo. Sono molto fiducioso che Roma possa vincere questa sfida e avere un'altra grande occasione di rilancio. Io lavorerò innanzitutto partendo dal lavoro che è stato fatto per presentare un progetto di qualità. Abbiamo il Giubileo, abbiamo l'Expo che ci dobbiamo conquistare ma che penso possiamo vincere e poi avremo anche il 2033 che sarà tra una data molto importante perché è il bimillenario della passione di Cristo. Buonasera Gualtieri. Cosa fa? Expo. Canta. Ti ho perso quest'inverno ma in estade. Cosa? Mi ricordo Roma. Tu mi eri tra le candidate. Eh sì, sì, sì. Ma poi so subentrati gli arabi con tanti, ben milioni. E hanno vinto infatti. Quanti milioni. Addio Expo. Eh sì, addio. A New York. L'ha visto il microfono che mi egracchiava. Sì, l'abbiamo visto. Vedevo la mia autostima che franava. Eh beh, comprensibile. Non faccio che pensare a quell'orrororo. Ma vabbè, ma ormai è il passato del tempo. Pare il sindaco è l'inferno. No, come pare il sindaco è l'inferno. Non riesco a sistemare mai le cose. Dovrebbe farlo, però. I cantieri che mi oscurano quelle poche rose. Infatti, infatti. E io mi chiedo. Cosa? Ma sto lavoro lo so fare. Speriamo di sì, perché l'hanno eletta. Non lo so fare. Addio Expo. No, vabbè. Non lo so fare. Niente, vabbè. Ha cantato. Addio Expo. Se sapessi fare, non direi addio Expo. Oh, buonasera, Gualtieri. Buonasera a lei. Cosa c'è? Cosa fa? Non guardi l'orologio? No, perché dovevo fare una cosa tra mezz'ora, ma non mi ricordo più. Cosa doveva fare? Non importa. Che mi diceva, scusa? No, no, dicevo, avete perso l'Expo. È stata una bella mazzata. Eh, sì. Ma allora perché cantava estate? No, no. Non cantavo estate. Cantavo testate. Cioè? Sono le testate che do nel muro tutte le mattine. No. Pum, pum. Quando mia moglie si sveglia e mi dice, è ora di svegliarsi, sindaco dormiglione, apre le taparelle e io, pum, pum, do le testate nel muro. Lei non mi vede perché tira su le taparelle. Testate. Certo. E fa, ma che fai? Delle testate? No, amore mio. Dico solo, smettila di chiamarmi sindaco. E lei, no, smettila tu di rimuoverlo. Amore, tu sei sindaco. Perché lei lo rimuove. Ma che cosa? No, che è sindaco. Perché sono sindaco. Eh, sì, lei. Ha ragione, lo rimuovo, vede? Lo rimuovo spesso. Ah, è tanto. Ma perché rimuove? Perché? Come perché? Vede, io mi muovo così bene tra i meandri delle corde della chitarra, vede? Sì, abbiamo visto. Se faccio un sol minore, nona sesta, è poi un diminuita. Mi muovo meglio tra le corde della chitarra che tra le grane di Roma. Ho capito, ma lei... Se lei mi chiede di fare un accordo di sì, diminuita, nona sesta, io glielo faccio, a occhi chiusi. Bravo. Ma se lei mi chiede di smettere di fare andare a fuoco i Pullman di Roma... Che dovrebbe farlo? Piuttosto chiede ai maneschi se nei loro concerti posso portargli agli amplificatori. Vabbè, ma adesso non credo che... Pensi che è bello se tutte le mattine mia moglie invece di chiamarmi in quel modo là... Certo, sindaco. Perché sono sindaco. Certo, sì. Ma non porto gli amplificatori ai maneschi io, no, 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 no. E lo so. E no, infatti, no. Guardi, da quando a Roma c'è la Raggi non si vive più. È sporca, è piena dei turisti, mancano i taxi, il traffico, i cantieri. Guardi che la Raggi non c'è più, eh. Ah, e chi c'è? Ma come chi c'è? Lei! Io? Eh sì, sì. L'ho rimosso di nuovo. Eh sì, ma troppo. Mi scusi, ma ora devo andare. Perché? Dove va? Dove va? E guardi, c'ho il dottor Servini Branchinari. E chi è? Beh, è un bravissimo psicologo. Ah, ecco. Secondo lei dice che si arrabbia se io ci vado con l'amplificatore dei mani. Ma guardi, se è psicologo capirà, eh. Sì, sì. Lei non sa quanto è bravo. Eh, meno male. Mi aiuta con sta cosa della rimozione. Speriamo. Non mi fa pagare. Addirittura. Manco se fossi il sindaco di Roma. Ma lo è. Vabbè. L'ho rimosso. Andrea Salone, se qua lo balfiore. Scusate, fratelli. L'avete visto il video di De Luca? Quando parlando di Lolo Brigida gli va di traverso l'acqua? Vincenzo De Luca va di traverso l'acqua mentre parla del ministro Lolo Brigida. Questi portano pure sfiga. Allora, no, 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 no. No, è la stampa che ha tradotto sfiga. In realtà lui ha detto feccia perché in napoletano per dire quando porti sfortuni si dice porta seccia. Infatti De Luca ha usato la parola seccia alludendo al fatto che in tasca tiene un uguornadanto. Perché De Luca, ragazzi, verrà ricordato non per i 15 mandati da governatore che sicuramente farà. Ma perché lui entrerà nelle techerai al posto di Totò, Peppino e Troisi? Perché il teatro che fa supera spesso i contenuti da lui e i nunciati. Ti ricordi di più la gag che il suo programma politico. Tra l'altro, vi avviso, se doveste incontrare De Luca, state attenti. Perché lui è un combattente vero e la lotta per la campagna la porta avanti anche col corpo a corpo, al suon di Koshiguruma, o uno Sotogari. Perché lui fa giudo. Pazzo che dice. Avete avuto qualche esempio di statistico? Uno che ha fermato un treno per venire a inaugurare il giardino realizzato dai carabinieri, neanche da lui. Noi dobbiamo interloquire con questi soggetti. che portano pure seccia. Non solo sono improbabili e incompetenti, ma portano seccia maledettamente. Per cui, da questo punto di vista, siamo ben protetti. Non ve lo faccio vedere, ma... Allora... Sapete che sono impegnato in questa settimana in una campagna anche di pubblicizzazione del lavoro della regione Campania per rompere questo muro di gomma che ancora è presente in Italia. Non si parla del fatto che siamo l'unica regione in Italia che garantisce il trasporto gratuito agli studenti fino a 26 anni. Unica regione in Italia. Non si parla del fatto che siamo la regione che garantisce l'apertura di quasi 500 scuole nella regione Campania, di pomeriggio e di sera. Almeno noi questa cosa sottolineamola, perché qui quello che si fa a Napoli in Campania sembra cadere dal cielo. No, no, qui dal cielo non cade niente. Qualche benedizione, qualche medaglia al valore, ma dal punto di vista, diciamo, finanziario, qui sono lacrime e sangue. Quindi molta solidarietà, molti eventi, molte conferenze stampa. Quando si tratta di mettere mano al bilancio scompaiono tutti. In Campania abbiamo un altro privato. Noi parliamo oggi di sport anche perché abbiamo deciso cinque anni fa di fare un investimento enorme per le universiati. Lo ricordo, 270 milioni di euro della regione Campania. Anche questo è stato un unicum. Non solo perché l'evento si fa in un'unica nazione. Ma perché è stato un finanziamento esclusivamente regionale. Non abbiamo avuto un euro da nessuno. Lei che sport faceva da giudo? Giudo. Buonasera. Buonasera Presidente De Luca. Giudo. Buonasera. Buonasera. Giudo. Fa giudo. Gendo io giungo in moto, porta matta, porta lì. Cos'è questa roba? Questa è una mostra di giù. Ah sì? No, sembrava. Anche giù jitsu. Ah, giù jitsu. Kung fu panda. Kung fu panda. Sì, questo è un ammazzato. E' un ammazzato. Non sembrano. Non sembrano. No, queste non sono mani. Queste sono armi. Va bene, ma adesso no. Ieri in bagno lavandomi le mani mi è partito inavvertitamente un colpo e ho spaccato a metà il lavandino. Vabbè, addirittura. Vabbè, abbiamo capito. Cosa sta? Cosa fa? Cosa sta facendo? A morta. A morta co? Cosa sta facendo? A bara. Sto facendo una turma in Kill Bill. Ah, ma sì, ma lei lo faceva da sotto. Io come lei cerco di uscire dalla bara della palude burocratica in cui mi vogliono mettere quelli di Roma. Sì, ma non possiamo. Questa scrivania rappresenta la bara crazia. Ma hanno fatto male i conti perché in campagna... Eh, ma male. Un po'. Ah, ok. In campagna Kill è... Non è Bill. E cos'è? Kill è De Luca. Oh, mamma mia. Io giudo, eppure loro sono giudi. Sì, va bene. Giudi e Scarioti. Perfetto. Sì, ma non possiamo fare un'intervista... Ma questo non è un'arte marziale. Io con lo spostamento d'aria creato dal... Tiago, ma... Sì, cosa fa? Ho crevato l'ufficio di Fitto a Roma. Oddio, che ha? Cos'è? Che succede? Che cosa c'è? Sei andato lì traverso l'uffitto. Ma vabbè, dai, su. Oda, flumicil! Ma che... Ma per favore... Ma che è, FWC? Ma facciamo un'intervista normale. Parliamoci da politico. Diciamo delle cose semplici. Fitto e tutti quelli che stanno a Roma sono dei portasecci. Non ci interessa. Fitto e così portasecci che quando entra in un bar tutti i gratta e vinci diventano solo gratta. Va bene, va bene. Abbiamo capito. Il concetto lo ha espresso. San Giuliano è talmente portaseccia che quando guarda un film di Rambo, Rambo si arrende. Va bene. Abbiamo esaurito la... Quando guarda torna a casa Lessi. Lessi torna, ma la casa la trova occupata. Va bene. Basta. Quando legge i promessi sposi, Renza e Lucia alla fine divorzia. Va bene. Abbiamo... Possiamo parlare seriamente, per favore? E va bene, parliamo seriamente. Oh, grazie, finalmente. Scelga lei l'argomento. Ma no, ma non voglio. Vuole parlare. Non so. Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è? Sudor. Ma no. Sudore. Sono storte. Lacrime. Sì. Sono storte. E va bene. Sì, e va bene. Non importa, ma non importa. Sangue. Sì, ma no... Sudore e lacrime. Scelga lei. Ma non voglio. Ma non voglio. Sangue, sudore e lacrime. Scelga su. Scelga. E va bene, scelgo. Ma cosa scegli? E me l'ha detto lei. Ma cosa scegli? È un trabocchetto questo. E va bene, ma fa tutta sta manfrina. Perché qui in campagna non c'è scelta. Ah, era per arrivare lì. Ok. Qui le cose si possono fare solo con tutte e tre le cose. Lacrime. Sì. Sudore. E santo. Va bene, mi sembra un filo troppo... Metti sudore. Va bene, adesso non va a fare niente. Metti le lacrime. Seriamente dura poco. Leva le lacrime. C'è, le lacrime. Karate Kid del Luca San. Va bene, le chiedevo di parlare seriamente. Lei lo sa i sacrifici che fa questa regione per fare la regione senza perdere la ragione? Così? Calamburro. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella. Non lo sa. Non lo so. Ma lei è di Torino? Eh, ma siamo sempre lì, certo. E non lo sa perché nessuno ne parla. La campagna è come l'area 51. Si sa che esiste, ma su di essa deve alleggiare il mistero. Non è vero. E allora le cose positive della campagna ve le dico io. Ma le ha già detto. La campagna è l'unica regione che dà il trasporto gratuito agli studenti fino a 26 anni. Beh, questo è bello. Questo è bello. Tanto sarebbero saliti gratis comunque fino a 5 anni. Vabbè, ma allora. Non può. Prego. Deva. L'abbiamo esaurito. Il trasporto pubblico l'abbiamo esaurito, no? Trasporto pubblico fatto tra l'altro da 1500 autobus nuovi di zecca. Oh, bellissimo, bellissimo. Naturalmente, essendo nuovi come i mocassini, partono un po' stretti. Vabbè, dai, lo so. Ma dopo un po' che li usi cedono. E gli autobus va bene. Io, solo io, dico che la campagna tiene aperte 500 scuole pomeriggio e sera. Bello, questo è molto bello. Anche perché in campagna, prima delle 14, chi si sveglia? Ma no, ma no. Uaggalamaya! Halagal! Questo era un kung fu? No, questo era uno starnuto. Non l'abbiamo capito. 5 anni fa per le universiadi abbiamo trovato 270 milioni di euro senza che nessuno ci desse un centesimo. Ah, e come li avete trovati? Come li abbiamo trovati, come li abbiamo trovati, come li ho trovati. Ah, sì, perché è certo, è certo. Come? Ho iniziato andando a cercare i centesimi fra i cuscinoni dei divani. Ah, sì, adesso non si fanno 270 milioni. Ma perché? Poi ho chiesto agli arbitri di donarci le monetine di quando fanno testa o croce per la scelta del campo. E vabbè, sempre tutta un'epoca. E rimembrando Totò persino venduto una dozzina di volte il maschio angioino ai turisti americani. Eh, brava, quella è un'opera, va bene. Poi, cosa ha fatto? Perché non bastano questi... Che c'è? Ho fatto il tuo e-boy. No, aspetti, aspetti. Aspetti. Ho fatto il tuo e-boy a più di 60 ricche ereditarie ultracentenarie. No, non ci voglio neanche pensare. Mi mettevano 50 centesimi nelle mutate. No, non voglio sentire. Pensa quante ereditiere ho dovuto fare. Eh, immagina. Per arrivare a 270 milioni. Li capisci ora i sacrifici o no? Sì, li ho capito. Tai-go-n-do-ga ma-woll-ra-mi-a. Però non sia sempre così drammatico. Se oggi in campagna si può parlare di sport, è solo grazie alla regione. Prima di me qui il giavellotto, il lancio del peso, il martello. Non si potevano fare perché non c'era niente da lanciare. Ma non esagio. Si sputavano. Non credo. Naturalmente io ho portato lo sport pure nei quartieri difficili. Bravo, bravissimo. Con qualche problema perché all'inizio nelle gare di corsa, quando lo starter sparava per dare il via, iniziavano a sparare anche tutti gli altri. Per cui i corridori, gli spettatori sui spalti, il Bibitaro. Vedi che... Mamma mia. Niente. Speravo che almeno l'ultima puntata. Niente, vabbè. Ora purtroppo le risorse della regione sono finite, siamo a secco. E quindi? Abbiamo potuto solo investire sul mattone. Ah beh, dai. Cioè, su un mattone. Ah, un mattone. No, 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 no. Io lo uso per spogarmi. No, non lo faccio. FITTO! No, no. Guardi. Forse... Fitto, vero? Meglio che beve? Fitto mi porta... Vabbè, seccia, lo sappiamo. No, sfiga. Proprio lui porta sfiga. Andrea Zalone! Il Vabbè, il Vabbè, il Vabbè. Facciamo un applauso a Discovery, a Bunny J, alla produzione nostra, all'ITV, a Paolo Schiavone, alla regia, alle redattrici, alla produzione, alla Valentina, a Morerio, a Tony, Andrea, alla Beolchini, a Igor. Allora, ai cameraman, a tutti, all'orchestra, all'Ovato. Va bene? Ho dimenticato qualcuno? Più o meno li ho racchiusi, dai. Allora, per Bill Gates, grazie a Lee High, lavoreremo solo tre giorni a settimana. Dunque, fratelli, non è una figata pazzesca l'intelligenza artificiale, cioè praticamente la settimana diventerà di tre giorni di lavoro e quattro di weekend. Tutto bellissimo, certo. Ci sarebbe anche una piccola controindicazione, entro una manciata di anni, nelle fabbriche ci sarebbero solo robot, negli uffici robot, nei taxi robot, nei negozi robot. E anche quando dovranno operarci ci saranno solo chirurghi robot. Certo, poi anche loro andranno in Norvegia perché li pagano meglio. Ma comunque, il lavoro umano non esisterà più. Fammi vedere. Con l'intelligenza artificiale addia 300 milioni di posti di lavoro, dovrebbe aumentare la crescita annuale del PIL del 7% nei prossimi dieci anni. Cioè, nei prossimi dieci anni nel mondo ci saranno 300 milioni di disoccupati in più, ma il PIL aumenterà del 7%. Ma il PIL di chi? Dei disoccupati, non credo. Senz'altro quello di Bill Gates. Io comincio a preoccuparmi, ma c'è qualcuno che ci sta pensando? Cioè, non accadrà 300 anni, ragazzi, succede adesso. Faccio un esempio. A metà dell'Ottocento in Europa compaiono le fabbriche, i contadini diventano operai. Cambia la società, cambiano le città, cambia tutto. Finché non arrivano due filosofi tedeschi, Marx ed Engels. E si immaginano un modello di società possibile, magari non l'hanno azzeccata, ma almeno ci hanno provato, si sono messi lì e hanno cercato una visione. Oggi viviamo lo stesso cambiamento epocale, ma una nuova visione. Ma chi, caspita, ce la dà? Da chi ce la dobbiamo aspettare? Da Salvini su TikTok? Da Lolo Brigida sul Frecciarossa? Ci vorrebbe uno con la stessa barba di Marx, ma con una filosofia meno digitale, più manuale. Eccolo lì. Ecco, lui sì, che potrebbe indicarci la via, perché per lui non c'è discussione. Il lavoro si fa con le mani. Il suo hard disk sono i calli e il suo cloud sono sì le nuvole, ma quelle vere. Guardiamocelo, guardatevelo, che io vado a cercare dei raponi. Un programma alle mani perdute e andare in giro per l'Italia a trovare chi ancora lavora con le mani, che tocca, che carezza, ma dal manovale al muratore, al potatore, perché si perde questo sapere. Insegnare ai ragazzini, io volevo fare una scuola d'arte, scultura, intarsio, basso rilievo, l'argilla, le ceste, le gerle. Sarà meglio un portafrutta di un vimini che uno di plastica, no? Conservare in piedi nella natura, nel rapporto tra gli occhi. I pari passo alla tecnologia, sacro santa, anche un contatto con la terra. I ragazzini non sanno più accendere un fuoco, si perdono, escono di strada un attimo e sono persi. Ho un sogno di andare, di fare il cammin di Compostella. Però vorrei partire qui, a piedi, senza soldi, con le carte di credito. Sono tutti buoni da viaggiare. Cioè, arrivo in un punto, lì, guardate, io so fare disegni, so fare un ritratto, so scolpirvi un guffetto, mi date un piatto di minestra, un litro di vino. Anzi, prima un litro di vino, poi un piatto di vino. Perché io non ho quegli oroscopi lì che ti segnano la via, i telefoni. Quei telefoni, smartphone. C'è anche l'oroscopo. Google. Google, ma. No, no, a Napa. Come una volta. La sacralità delle mani stiamo perdendo. Non sappiamo più usare le mani. Ritorniamo a inginocchiarci sulla terra. È quella che dà da vivere. Buonasera, Corona. Buonasera. Dobbiamo recuperare la sacralità delle mani. Sì, bello. Buonasera. Imparare a plasmare l'argilla. Eh, sarebbe bello. A creare utensili. Eh, già. Fondamentali per la sopravvivenza. Immagino, immagino, immagino. Tipo questo. Cos'è? Tipo questo, che è un cavatapi. Ah, sì, fatto con le... Tipo questo. Vabbè, ma non è che tutto debba essere... Tipo questo. Sì. Ma scusi. Tipo questo. Ho capito, ma sono tutti cavatapi. Ogni oggetto ve lo trasforma. È certo, perché una bottiglia non stappata... Cosa? Non può ogni oggetto trasformarlo in cavatapi. Scusi, eh. Una bottiglia non stappata è un cuore che non ha mai amato. Vabbè, adesso non esageriamo, però... Fammi dare un bacio d'amore, vai. No, 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 non cominci. Non beva. No, 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 la prego, non può. Tutte le volte facciamo... Basta, basta così. Un sorso. No, niente, la finisce. Basta. Corona, non beva. Dobbiamo ripartire dai bambini. Ecco, questo sì. Riducarli a usare tutte le dita. Certo. Tutte sì, tu le mani. Perché oggi usano solo il pollice per scorrere le immagini sul cellulare. Verissimo, verissimo. Anche mio nono usava solo il pollice. Ah, sì? Sì, ma perché nel 1915, nella prima guerra mondiale contro gli austriaci, in trincea, gli avevano detto, leva la spoletta, conta fino a dieci e lanciala. Eh? Ma lui non sapeva contare, era un alfabeto. No, no, vabbè. E a un certo punto, boom, poverino. Eh, immagina, eh sì. Sono partite tutte le dita. Sì, è certo, immagina. Gli è rimasto solo il pollice. Sì. Però poi a fare l'autostop era un dio. Ah, beh, certo. Però, povero nonno. Però ecco, questa cosa, sì. Questo recupero della manualità. Dobbiamo tutti. Sì? Dobbiamo tutti tornare a usare le mani. Ma certo, ma certo. Mettere intorno alla bocca per urlare. Perché? E comunicare di valle in valle con l'ecco. Ah, sì, vabbè, il telefono magari… Torniamo ai bicchieri con lo spago di sei chilometri da paese a paese, che ti parli così. Ma non togliamo proprio tutto. Basta con leggere le storie su Instagram. Ecco, quello. Io le storie le leggevo sulla mano di mia nonna. Ah, immagino che bello. Ogni callo era un pezzo di vita. Eh, certo. Ogni caressa sul viso ti piallava via la guancia. Questo è vero, c'era un po' rugosa. Va bene. Sì, va bene. Ormai la tecnologia è tutta in mano a quattro miliardari. Verissimo, eh. Con intelligenza artificiale fanno perdere milioni di posti di lavoro. Problema enorme, eh, questo. Ma quale problema? Una benedizione. No, no. Finalmente i broker fighetti, mangia sushi di Milano, torneranno a cacciare l'orso? Vabbè, adesso… Stanandolo dalla grotta, come faceva mio padre. Ho capito, ma non è che… Mi ricordo che mi portava con lui e mi diceva stai qui. A cacciare l'orso. Sì, perché mi riempiva di miele e mi diceva aspetta qui. No, un'infanzia terribile che non auguriamo adesso a nessuno perché… Non beva però, non beva, non beva. Per favore, Corona, la prego. Non dia questo esempio, non beva. Su. Io adesso capisco… Grafici, doppiatori, interpreti, tutti perderanno il lavoro. È vero, è vero. E anche le cacciere dei supermercati. Eh, capisci che… Ma è un bene. No, no. Perché al supermercato adesso era una stortura. No, non è un stortura. Ma è già il bosco, il supermercato. Sì, ma non è che… C'è la carne, c'è la verdura, il pesce, la frutta, trovi tutto. Ma ho capito. Anche la carta igienica. No, quella non c'è, no? Ma sì, quando prendi un visone con la pelliccia morbida, altro che doppio velo. No, no, no. È il doppio pelo. No, 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 ma vabbè, ma adesso senza andare proprio su questi dettagli. Milioni di persone perderanno il posto di lavoro, ma ritroveranno la madrettera. Eh, magari, eh. Venendo tutti qui a ripopolare le nostre valli. Sarebbe bellissimo. Che adesso siamo in trenta e siamo anche un po' stufi di accoppiarci solo fra di noi. No, 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 spero di no. Dai, su, adesso… Sono due mesi che mi capita il poiano. No. Ora non dico fare dei turni rigidi. No, 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 la prego. Ma almeno organizzarci. No, sì, ma io mi auguro che non si arrivi a quello. Però, no, il tema è importante, è giusto sollevare. Ma giusto per variare. No, ho capito, ho capito, ho capito. Comunque io varierò anche poco. Eh. Ma in città si varia troppo. Cioè? Ci sono le discoteche dove incontri centinaia di persone ma non incontri mai te stesso. Ah, che bella frase, bellissima. Milioni di corpi, ma zero anime. È vero, è verissimo. Una volta non c'era la discoteca, c'era la ballera, che era una liturgia. Eh sì, eh. E dopo una settimana spaccarsi la schiena sui campi. Sì. Facevano il bagno nella tinozza a dodici figli. Eh, c'era quello una volta. Tutti con la stessa acqua. No. Che era sacra. Sì. Che poi la mamma la usava per cucinare. No, 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 questo no. Senza bisogno di salarla. No, no, la prego. Il minestrone veniva denso come la marmellata. Ma è un orrore, adesso non si deve tornare a quello. E dopo che ci erano fatti tutti il bagno, si mettevano il vestito buono e andavano in balera. Ecco, torniamo alla balera. C'erano le ragazze del paese, belle, sane, robuste, con le caviglie del diametro di un olmo. Vabbè, a chi piace, insomma. Certo. E ti sorridevano sotto i baffi, nel senso che sotto il naso avevano proprio una martora. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, ma che importa. Oggi invece le donne sono tutte depilate. Eh, c'è sta moda. Ma mai quanto gli uomini. È vero, anche loro. Ragazzi che si tosano come le pecore. Sì, si depilano, vabbè. Quando invece il pelo è sacro. Vabbè, sacro è troppo. Che quando spunta dalla scella e avvolge la prole come una sciarba. No, se si arriva a quel punto. Fa un senso di famiglia. Ma no, ma no. Che ci porta alla pietra focaia. No, 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 no. Ma quando il pelo abbonda non c'è neanche bisogno di andare a fare legna. Perché? Basta il pelo ispido dei polpacci della nonna che con un polpaccio ci fai la notte in grotta. Ma no, ma guardi, non è il caso. Tu vedi negli spot dei profumi questi uomini che escono dall'acqua a glabri che è così. Con il sottofondo la voce rocca che fa. Ma cosa cazzo hai detto? Sono un po' criptiche quelle pubblicità, è vero. Però non si può demonizzare tutto, eh. Non beva. La prego. Guardi, glielo chiedo per favore. Non smetta di bere. Parlo meglio io dopo la terza bottiglia. Sì, vabbè, vabbè. E per di più col vino ancora in bocca. Io le consiglio di non bere. Ma strofinatevi sul colo una frasca di pino mugo. Eh, ma fa male, fa male. Senti che è l'aroma che ti resta con la resina. Vabbè, ma non è capito. Che non te la togli più per sei mesi. Ho capito, però non è... Il profumo è un gettume. Ma sì, però non fa niente di male. Cos'è? Guarda qui, guarda la bottiglietta di vetro col tappo di plastica. Eh, lo so, lo so. E poi la scatola, tutto pattume che si crea. Questo è verissimo. Tra l'altro costa tantissimo. È vero, è vero. Che non ha neanche tutto sto buon sapore. Sì, ma non va a bevù? No, no, non bev... Ma no, ma no, Corona, non deve berlo. Capisco che c'è l'alcol, ma non si... No. Cos'ha? Si sente male? No. Ah, mi è venuta voglia di depilarmi. Ah, vabbè. Tra poco con Redroni e Ventana. Tra poco Andrea Salone. Silvano Belfiarebè. Abbiamo avuto questo contatto con Jimmy Hendrix perché è un giorno molto importante. Perché? Perché oggi avrebbe compiuto 81 anni, quindi 8-1 fa 9. E poi c'è il 27 che si ripete in continuazione. Jimmy Hendrix aveva dato appuntamento il 27 di novembre tramite Sonia Benassi. e noi ci siamo tornati qui oggi pomeriggio e Jimmy Hendrix ci ha dato un messaggio spettacolare. Possiamo partire. Ah, è Jimmy? Sì. No, 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 non è possibile. Certo. Quando arriveranno all'astronave ci porteranno nell'altra dimensione dove non c'è tempo. Mentre qui c'è il tempo, di là non c'è il tempo. Ah, infatti. Tu hai un computer, un blender che non so cos'è e una macchina fotografica. Esatto, io creo che con questo macchinario, questa corrente video, lo spettatore vede soltanto un cumulo di macchie che vanno e vengono, biancastre, prive di significarlo. Chi è questo? Chi potrebbe essere? Vedi che ha le cuffie qua appoggiate. Due cuffie, sì. Ah, sì? A me sembra John Lennon, scusate. Ma c'è John Lennon qui? Assolutamente sì, assolutamente sì. Di quello che è successo oggi pomeriggio faccio vedere questa immagine. Questo è quello che è comparso oggi, una delle figure che sono comparso oggi pomeriggio. Eccola qui. C'ha una zona grande, le labbre grandi. Questo può essere Jimi Hendrix e abbiamo fatto una sovraimpressione tra Jimi Hendrix e lui. E allora lui. Eh, ragazzi, è arrivato il 27, il 27. E cosa è successo? È arrivato a trovarmi Jimi Hendrix. Ah, è vero, l'aveva detto. Non se ne va più via. Non va più via. Come non va più via? Due più sette, nove. Quindi? Cosa c'è scritto qua? Vuole stare nove giorni. Jimi Hendrix, ma dove? Jimi. Jimi. Ma cos'è lì Jimi? È là Jimi, l'hai visto? Ma non è là Jimi. Jimi, il deodorante è sotto il lavandino. Ma cos'è? Non si è portato niente. Cazzo, ragazzi, non si è portato niente. Ma come non si è portato niente? Ma come non si è portato la dimensione? Ma non sta a girare nudo. Ma va bene. Vai in camera mia, ti prendi un paio di mutande e te le metti. Mamma mia. Ah, sono gli appunti della Benassi quelli. Ma leggo bene? No. Cosa c'è? Arriva John Lennon. Sì. Esatto, certo. Ma come c'è? Arriva l'8 dicembre. Certo. Certo. L'8 dicembre, il giorno che è morto. Ma chi? Ah, John Lennon. 8 più 12, 20. Cazzo, vuole stare 20 giorni. Assolutamente. Come assolutamente? Da cosa l'ha capito? Ci abbiamo già il quartetto Cetera, ragazzi, però. Che fa il capodanno da noi. Ah, sì? Cazzo, arrivano il 26, stanno qua fino al 2. 3. 3. Stanno fino al 3. Ma come? L'hai sentito? Tutti sei collegati con il quartetto Cetera. Ma cosa hanno prenotato? Non si capisce. Ma al 3 arriva Michael Jackson, però non si può. Con tutti i ballerini di Thriller. Arrivano tutti. Cosa c'è? No! Cazzo! Cazzo! Ma cosa... No! Cosa è successo? Guarda cosa mi è rimasto sul telefonino. Cosa è arrivato? Cioè, Natura C mi scrive. È quasi mezzanotte. È un supermercato. Fra poco chiudiamo. Pascia tua a prendere il tofu. Mamma mia. È quasi mezzanotte. Cosa? Cazzo! Sono le stesse parole della canzone di Thriller. Uguali. Uguali! Ma sarà un caso. Dimmi, Benassi, Jimmy vuol parlare? Sì. Certo. Dimmi, vuol parlare. Jimmy chiede? Sì. Jimmy chiede. Cosa chiede? Già che esci per il tofu, si puoi comprargli il formaggio spray. Non ci credo. Però ragazzi, cioè io, per l'amore di Dio Benassi, però diglielo un po'. Cioè ragazzi, quando vi connettete con noi, va bene connettere con noi, c'è l'altra missione. Eh. Però questa casa non è un albergo. Non lo è. Eh, che cazzo. Aspetta, aspetta un attimo che mi sta parlando. Continua parlando. Ancora. Grazie Red, non serve più. Eh. L'ho preso da Walmart. A Detroit. A Detroit! A Detroit! Cazzo! Cioè è andato a prendersi lo spray del formaggio. La pulce faccio. Eh. Ma quante cassate dici, Red? Eh, appunto. Come ha fatto Hendrix ad andare e tornare da Detroit in un secondo? Eh, appunto. Eh, ma infatti... Caro le pulci faccio, le cassate le dici tu. No, no, no. Quante volte, lo devo dire, che il tempo nell'altra dimensione non esiste? Non esiste. Infatti Jimmy è già tornato. Sì. Lo sento... Lo sto sentendo qui, lo sento anche tu? Sì, lo sento. Lo sentiamo tutti. Ti sta parlando? Sì. Cazzo, aspetta un attimo... Aspetta un attimo che prendo la... Scusami. Prendo la Blender. Cos'è la Blender? La Blender lo fotografo. Ah, toglierei il tappo. Cazzo. Cazzo, chi è quello che si messo davanti? No. Ma c'è il tappo. Scusami, Benassi, ma quello davanti è Elvis Presley. Esatto. Cazzo, c'ha i capelli uguali. Quindi è Elvis. È lui. C'è il tappo. O è Frank Sinatra? Esatto. Ma è Frank Sinatra o Elvis? Può essere. Può essere. Cazzo. Può essere che... Può essere. Potrebbe essere che può essere. Può essere. Ma cosa state dicendo? Se ne sono andati. Oh, meno male. Fotografo Jimmy. Dai, ma c'è il tappo. Eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere. Lo puoi mettere. Se mi puoi mettere, me lo potete attaccare in... Vabbè, ve lo faccio vedere qua, lo stesso. Sì, va bene, vediamo. Usate. Ops. Ma cos'è quella? Ops. Scusami. Benassi, scusami. Mamma mia, i briviti. Gli occhi non sono i suoi. Ma è lui, sì. Non mi sembra che siano i suoi. Ma la bocca e il naso, sì. Ma scusate, quella è una foto. Guardi, quella foto è su internet. Eh, ma infatti. Passesco. Incredibile. Incredibile. Cioè, l'ho appena fotografato e la foto è già su internet. Incredibile. Le pulci faccio, guarda che c'era già prima. Certo, è certo. Cazzo, le pulci faccio. Non hai capito? Cosa? Nell'altra dimensione, non esiste il prima. Guarda qua. Cosa c'è? Cosa c'è? Il 24 vuol venire Freddie Mercury, cazzo, a fare il cenone. Vengono tutti. Ma no, il 24, non siamo giù a mangiare... Cosa? Su Orione con Latonini e Viscerione e gli Alfa Centariani che facciano la bagna a casa. Esatto. Il cenone. Viene anche tu, me ne lasci, vuoi venire? Esatto. Esatto. Sei contenta? Può essere. Questa è, scioccia ragazzi, la Benassi. È la Benassi. È evidente che è lui. È lui, progetti. Cazzo, ragazzi. L'ho fotografato. Lascia il tappo. Avevo lasciato il tappo. Questo per dire, col tappo, l'ho fotografato lo stesso. Per dire. Ragazzi, cazzo. Buonasera. Buonasera. Benvenuti in Italia. Benvenuti a il, come è qui. Vorrei, secondo l'ultimo rapporto, ISTAT, la popolazione italiana ha sfondato il tetto dei 90 milioni, di cui l'80%, pensate, sotto i tre anni. Dopo che il governo ha stimolato evidentemente la natalità con asili gratis, babysitter gratis, vestiti gratis, libri di scuola e zainetti gratis, ma soprattutto quello che ha fatto esplodere l'incremento demografico è il bonus di 1000 euro ad amplesso. Sempre che lui all'ultimo non faccia il salto della coaglia. Infatti sono stati assunti 150.000 ispettori del cazzo. Naturalmente, sempre stando in tema, di assunzioni lo Stato ha indetto un concorso per 20 milioni di educatori artistici che entreranno nelle case a saltellare davanti ai giovani sdraiati sui divani per impedirgli di guardare il documentario su Ilari Blasi. Scoperto nell'Aragosta, Monegasca, il morbo del ravvedimento che oltre alla consueta diarrea provoca un forte senso di colpa, soprattutto negli italiani residenti a Monte Carlo, i quali dopo aver intasato i bagni del casino sono corsi all'anagrafe di 20 miglia e tra i boat intestinali hanno urlato vogliamo pagare le tasse in Italia! E ora parliamo di Bill Gates che ci ha profondamente rotto i coglioni! Scusate, non è una notizia, è un mio sfogo personale, scusate! Creata la droga del rispetto usata nelle discoteche dalle ragazze che la versano di nascosto nei cocktail dei ragazzi i quali improvvisamente fanno dichiarazioni tipo spero di non importunarti ma mi piacerebbe tanto parlare con i tuoi. Se vuoi usciamo da questo posto infernale e ci chiudiamo in macchina e io ti leggo a voce alta gli ultimi due libri della Murgia. Mattarella ha consegnato la medaglia al valore civile all'ingegnere italiano che ha inventato l'albero di Natale che il 6 di gennaio si smonta e va in cantina da solo! Scusate, mi è arrivata un'ansa dalla Lapponia. Babbo Natale ha dichiarato che quest'anno passa prima dai bambini di Gaza poi quello che rimane lo darà agli altri! Silvano Belfiore Benda, Andrea Zalone, ciao fratelli! Fratelli, la stagione finisce qui! Noi ci rivedremo a febbraio! Buone feste a tutti! Saluto questo palco qua dove c'è l'acquario di Fazio. Guardate la domenica, eh Fazio! Mi raccomando che ciao Woody Allen! Guardatelo! Qui c'è l'acquario ma io penso in grande, me ne torno al mare. A Carla, a Rivo, a Genova, vi voglio bene! Ciao! Ciao ragazzi! Silvano Belfiore Benda! Grazie! Torino Brand, Torino Brand Torino Brand, Torino Brand Torino Brand, Torino Brand